Fumata nera sulla nomina del nuovo assessore del Comune di Ispani. Lo scorso fine settimana la giunta, composta dal sindaco Franco Giudice e dal suo vice Amerigo Pierro, si è riunita per discutere vari argomenti. All'ordine del giorno c'era anche la surroga dell'assessore dimissionario Consolato Caccamo, ma il nome del successore non è venuto fuori. Difficile comprendere le ragioni per le quali la maggioranza tarda ad integrare l'esecutivo, considerando che sono trascorsi quasi due mesi da quando Caccamo ha protocollato le sue dimissioni. Era il 9 settembre scorso quando ha rimesso le deleghe nelle mani del primo cittadino. L'assenza di un segretario comunale, ha dichiarato nei giorni scorsi il sindaco attraverso questa redazione, sta causando il rallentamento della macchina amministrativa e quindi anche il ritardo per questa importante nomina. Ma in Paese ora ci si chiede come mai la giunta radunata si venerdì scorso alla presenza di un segretario comunale non abbia proceduto alla surroga, considerando il tempo che sindaco e vice hanno avuto a disposizione per scegliere un nome tra i consiglieri di maggioranza o uno esterno all'amministrazione. Nel frattempo il gruppo di opposizione attende risposte alla sua interrogazione proprio sulle dimissioni di Caccamo.